Buongiorno e benvenuti a Nisture House Europe. Oggi vogliamo dare una migliore panoramica dei modelli di racchette che sono in uscita in questo 2021. Qui abbiamo soltanto alcuni dei modelli, quelli che noi riteniamo essere alcuni dei più significativi, e di ripartire con la Ionex. La Ionex presenta le due nuove V-Core, qui abbiamo la versione da 98 e la versione da 100. Una racchetta che ha un design molto bello, con questo rosso e questo blu. È una racchetta che è adatta per quei giocatori alla ricerca di spin, riesce a produrre grandi livelli di spin, ma comunque non sacrifica molto il controllo. È una racchetta molto facile da muovere e sicuramente la versione a 98 è un pochino di più per chi è alla ricerca di controllo. Dopodiché direi di passare a un'altra racchetta che ci è piaciuta molto. L'abbiamo già testata e è molto molto bella. Questa è la nuova Head Radical, abbiamo sia la versione Pro che la versione MP. Sono due racchette, questa sicuramente per un giocatore di livello un pochino più avanzato, ha un peso maggiore, un ovale di 98. Tutte e due le racchette nella nuova versione hanno 5 grammi in più ognuna rispetto alla versione precedente, hanno un telaio leggermente più fine, si riesce a muovere davvero bene. Tendiamo a consigliarla per chi vuole impostare il proprio punto da fondo campo e lo vuole impostare con ottima precisione e con ottimi livelli di velocità e swing molto ampi. Ma sicuramente il colore fa da padrone a questa nuova racchetta. Per ultima vogliamo parlare di un'altra racchetta che ci è piaciuta molto, l'abbiamo già testata anche questa ed è esattamente la Dunlop. La Dunlop 6X. Questa è la 200 Tour, questa è un 265, quindi sono due racchette molto diverse. La famiglia Dunlop ha creato una racchetta più o meno per qualunque tipo di giocatore con questa linea. Questa è un ovale di 95, è una racchetta molto solida, è una racchetta che nonostante il peso si riesce a muovere abbastanza velocemente, è una racchetta che nonostante il piatto corde 18-20, lo schema corde 18-20 riesce comunque a produrre buoni livelli di spin ma sicuramente una racchetta orientata al controllo. Questa è una racchetta un pochino più semplice ad usare per tennis principianti, 2,65 grammi, quindi abbastanza leggera, facile a muovere ovviamente, non ci si può aspettare troppo da questa racchetta. Ad ogni modo, grazie per aver guardato questo video, vi aspettiamo sulla nostra pagina web www.tenniswarehouseheroes.com e seguirci nei prossimi giorni. Altre sorprese. Ciao! 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 Grazie.